Presentiamo l'avversario di domenica, Barcellona Pozzo di Gotto, affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, una società molto ambiziosa che da anni cerca la promozione nella massima serie, squadra molto esperta, età media di circa 30 anni, tutti i giocatori che hanno più volte militato nella massima serie, fino a questo momento hanno come noi sei vittorie e due sconfitte, in casa hanno perso una sola volta contro Capodorlando, sono sicuramente la squadra più forte, almeno sotto il punto di vista tecnico di questo campionato, non ha sulla carta punti deboli, tanti elementi in grado di segnare, i due americani Collins e Young che segnano circa 20 punti di media a partita, un gruppo di italiani di grande valore con Fantoni, Filloi e Maresca che di solito compongono il quintetto base e poi anche dalla panchina Toppo, Pintone e Natali che sanno dare sempre un ottimo contributo. Come ho detto sulla carta è una squadra che non ha punti deboli, giochiamo in trasferta in un palazzetto sicuramente molto caloroso, ce la metteremo tutta come abbiamo sempre fatto, per noi sarà una bellissima esperienza, una bellissima prova anche per i nostri ragazzi di confrontarsi con questi giocatori e con questa squadra e ce la metteremo tutta come abbiamo sempre fatto.